Il Covid-19 ha trasformato i ritmi, i volumi e i modelli di erogazione dei servizi in sanità. Nel 2020 rispetto al 2019 si sono ridotti del 50% i ricoveri ordinari, del 30% le prestazioni di specialistica ambulatoriale e gli screening. Questo significa che nel breve periodo verosimilmente il sistema dovrà prepararsi a programmare ed organizzare un volume di prestazione per una domanda più complessa rispetto a quella che solitamente si rivolgeva al sistema. Questo trend che il Covid-19 ci ha fatto vedere si incrocia con uno che già conoscevamo, che è legato ai processi di invecchiamento della popolazione e alle patologie croniche. Il 40% della popolazione italiana ne soffre di almeno una. Questo importante sforzo produttivo richiede robuste ma anche diffuse e competenze manageriali perché in sanità più risorse, più input non si trasformano magicamente in più servizi e miglioramento della qualità delle cure.